L'amministrazione comunale di Capistrello va al contrattacco dopo le polemiche sollevate nel giorno della Befana, quando in alcune calze distribuite ai bambini del piccolo centro abruzzese sono state trovate alcune patch della decima flottiglia, decima mass, che hanno causato un dibattito molto acceso e al centro delle accuse sono finiti il sindaco e l'intera giunta, incolpati di legami con ideologie fasciste. L'amministrazione di Capistrello ha smentito subito qualsiasi coinvolgimento con simboli o organizzazioni fasciste, ribadendo la sua totale estraneità ai fatti. Di fronte a una serie di insulti e dichiarazioni diffamatorie indirizzate nei confronti dell'amministrazione comunale del sindaco, è stato deciso di agire legalmente. Di fatto è stata presentata una denuncia acquarela ai carabinieri che include una dettagliata documentazione di estraneità rispetto ai fatti contestati. Adesso ci saranno le indagini che avranno l'onere di chiarire la situazione e stabilire la verità. Il caso di Capistrello quindi non solo evidenzia la necessità di una rapida risoluzione legale per stabilire la verità, ma ci permette anche di evidenziare come, negli ultimi tempi in particolare, non passa giorno senza che la cronaca si soffermi su questioni, temi, polemiche legati al fascismo inteso non come fenomeno storico, ma come invadente presenza politica e culturale. Un elenco lunghissimo.